Era appena uscito dal carcere, aveva attraversato l'Italia per tornare ad Arezzo e perseguitare nuovamente l'ex moglie, una 33enne di origine greco-albanese. È così finito in manetta di nuovo un 33enne residente nell'Aretino ma di origini albanesi. L'uomo che aveva appena finito di scontare una condanna a sei mesi di reclusione, sempre per maltrattamenti nei confronti della donna, voleva punirla perché, a suo dire, gli aveva rovinato la vita. Il 39enne aveva già numerosi precedenti. Nel 2015 era stato denunciato per ingiuri e minacce e lesioni personali, sempre nei confronti dell'ex moglie. La pena era stata sospesa dopo un patteggiamento. L'anno successivo aveva ricevuto un ammonimento dal questore di Arezzo dopo l'ultimo episodio di maltrattamenti in famiglia. Nel 2017 era stato condannato a sei mesi, prima in carcere da Torino, poi a domiciliari, nella casa di un fratello che risiede a Varese. Infine, l'uomo era tornato libero per buona condotta lo scorso 25 settembre e solamente due giorni dopo era già ad Arezzo. Era così ricominciato l'incubo della donna. Il marito, infatti, era tornato ad infastidirla con chiamata, aggressioni verbali, minacce di morte e pedinamenti. L'uomo, inoltre, l'aveva anche spaccato il parabrezza dell'auto. Lo scorso giovedì, il 39enne è stato sorpreso sotto casa della moglie mentre la stava minacciando per l'ennesima volta con un paio di forbici ed è stato arrestato dalla squadra mobile di Arezzo. L'uomo è comparso davanti al giudice del tribunale di Arezzo, Angela Avila, è stato convalidato l'arresto. Il PM Bernardo Albergotti ha chiesto ed ottenuto la custodia cautelare in carcere. Il processo è stato fissato per il prossimo 15 novembre.